Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato ai bambini con Stefania. Ciao, ciao a tutti! Eh? Chi c'è oggi? Lo chiamo, lo chiamo subito. Dorme. Allora se dorme ho capito chi è. Roger! Roger! Oh, sì! Che succede? Eh, siamo su Cantare in Libertà. Oh, ciao Roger! Non ti spaventare! Eh, sì, all'improvviso. Chi è un orio? Ciao, orio! Eh, Roger, come stai? Eh, sì, tutto bene. Ti posso fare una carezzina? Oh, sì, io non ho. Oh, sì. Ok, che bello ragazzi. Allora qui c'è Roger che ci insegnerà sicuramente una nuova canzone, immagino. Sì. Che canzone hai preparato? Eh, allora sì, chi ho? Gli indiani al centro della terra. Gli indiani. Benissimo, venga avanti. Forza. Che è pronto? Cantiamo questa canzone, non vedo l'ora di impalarla. Ok. Siete pronti? Sì. Gli indiani al centro della terra. Gli indiani al centro della terra. ballano con tutta la trivù. Aioh. Ai, ah, ah, ah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gli indiani al centro della terra. Torano con tutta la triu si bravissimo bravo Roger Va benissimo, questa canzone è divertentissima Sì, lo penso anch'io Sì, allora bambini, spero che anche a voi sia piaciuta tantissimo questa canzone Quindi noi vi diamo appuntamento a domenica prossima Sì, con un nuovo video Con Stefania E forse il leone Vediamo Se si sveglia presto Va bene Ok, ciao a tutti Ciao, ciao, ciao